Qual è l'importanza della cooperazione transfrontaliera per lo sviluppo del cicloturismo? La politica transfrontaliera si basa su una collaborazione tra i diversi Stati dell'Europa e quindi ci deve essere una collaborazione tra tutti gli Stati. I progetti transfrontalieri sono molto più importanti in un'epoca come questa dove si parla anche di Brexit, quindi di nascita di movimenti nazionalisti. In questo momento è nostro dovere invece avere una collaborazione transfrontaliera tra tutti i vari Stati. Quindi importanti sono i progetti transfrontalieri come Intense che ci permette di arricchirci l'un l'altro con questi progetti creando un percorso che non riguardi uno Stato solo ma che li riguardi tutti. Si crea solamente non un valore dal punto di vista turistico e culturale ma anche un arricchimento per tutti e una messa in valore, una valorizzazione di tutto quello che noi possiamo offrire. Quindi lo sviluppo dell'ideale europeo passa attraverso anche questi progetti trasfrontalieri che permettono di integrarci e di collaborare tutti insieme. Quindi siamo molto contenti io e Marc Angeli che è il sindaco di Ajaccio di poter partecipare a questo progetto e di essere uno dei partner importanti di questo progetto. Nei prossimi due anni faremo molto per cambiare e per permettere l'accesso a tutti a questa mobilità dolce che è una mobilità sostenibile e permettendo l'accesso a luoghi naturali e a paesaggi che altrimenti non sarebbe permesso visitare.